Buona visione da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Ciao a tutti, sono Sebastian Sartorelli, Chef di Cucina di Osteria Toblino Osteria Toblino è il punto di ristoro che si trova all'interno di Cantina Toblino Noi offriamo una cucina che utilizza i prodotti del territorio e li trasformiamo con un tocco di modernità Vi invito a venire a assaggiare la mia cucina e i nostri vini Abbiamo una selezione nuova di vini e c'è la possibilità anche dopo un pranzo di acquistare dei prodotti che utilizzo all'interno del mio menù nel nostro punto vendita Il giovedì in particolare faremo delle serate a tema dove collaboriamo con dei produttori del territorio e proponiamo una cena in degustazione dove in abbinamento ci sarà la possibilità di assaggiare i nostri vini Siamo aperti dal martedì, mercoledì a pranzo, giovedì a pranzo e cena, venderdì a pranzo e cena, sabato a pranzo e domenica a pranzo Vi aspetto ai nostri vini Arrivederci da Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Grazie! 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 Grazie!